E sì che adesso dovranno essere verificati dall'Unione Europea e poi tra 90 giorni, una volta pubblicati in canzetta ufficiale, entreranno in operatività. Parliamo di farine, di grillo, locusta migratoria, verme della farina e larva gialla. Mi sono dovuto iscrivere che sono un po' comune. Sono particolari. Ciao Serena, intanto ciao a tutti, buongiorno, grazie per l'amico ricambio. Ma allora, polvere non è una novità del governo, nel senso che già l'Unione Europea l'ha autorizzata in commercio con il nome di polvere semisgrassata o polvere sgrassata di grillo domestico. Per quanto mi riguarda, è una non notizia, nel senso che comunque è né più né meno quello che poi è stato approvato dall'Unione Europea, non imposto dall'Unione Europea, perché c'è sempre questo non detto, ce lo impongono dall'Europa. In realtà non ci impongono nulla, semplicemente attraverso la pratica del novel food ogni anno viene valutata l'immissione in commercio da parte di richieste private che vengono da singoli strati appartenenti all'Unione, di questo o quell'ingrediente a scopo commerciale. Ogni tanto l'Unione Europea dice sì, ogni tanto dice no, stavolta ha detto sì e quindi probabilmente ce la ritroveremo nei supermercati. Ecco, la cosa che forse non tutti sanno, Serena, anche chi ci segue da casa, è che in realtà qualcosa di insetti noi lo mangiamo quotidianamente, forse, vero? Più che altro l'abbiamo mangiato e in qualche parte lo mangiamo, è interessante per esempio tutto ciò che riguarda il colorante alimentare E120, che altro non è che la cocciniglia, che sopravvive ormai solo in alcune caramelle colorate rosse, da qualche parte, forse in uno yogurt, su tutto il commercio, ma in realtà è sparito sostanzialmente dalla produzione perché sostituito di volta in volta da coloranti vegetali come l'estratto della barbabietola, l'estratto di carota e viola, quindi mi fanno ridere i titoli di questi giorni, mai più mangeremo insetti senza saperlo, quando forse è la prima volta nella storia della cucina italiana che non mangiamo insetti senza saperlo, è divertente se ci pensi. Facevi l'esempio anche del concentrato di pomodoro? Sì, allora diciamo che da tutto quello che è bitter, rossetti, yogurt colorati, così il colorante E120, cioè la cocciniglia, l'estratto di cocciniglia, che è un parassita, è un parassite lopuntia, che è una pianta grassa, è sparito. In tanti altri cibi ci sono frammenti di insetti, ma questo lo sappiamo da decenni, se vai a vedere le specifiche tecniche per le forniture all'esercito italiano, ad esempio proprio sul sito del Ministero della Difesa, tu scopri che quando l'esercito italiano compra la passata di pomodoro, per dirti, o il concentrato di pomodoro, e fa le analisi, dice sono permessi fino a 35 frammenti di insetto ogni 500 grammi di prodotto, quindi 70 frammenti di insetto al chilo. Ora è vero che magari fa meno specie perché non lo vedi, però conta che lo Yulma ha calcolato che proprio grazie alla presenza accidentale di insetti, ma sistematica quasi, perché quando macini la farina ci finiscono dentro, quando fai le marmellate ci finiscono dentro, noi mangiamo mezzo chilo di insetti all'anno, da sempre. Quindi moltiplicato per esempio per la mia età siamo sui 15 kg, io avrei mangiato 15 kg, sei un discreto entomofago Valerio, complimenti. Va bene, qui siamo tutti senza parole, aspetta, fermatevi un attimo. Costa anche un po', no? Mi dicevi giustificando. Fermatevi un attimo, mi ascoltate. Ma giustificando, intanto comunque è abbastanza laborioso il procedimento, per quanto molto meno impattante sull'ambiente, in particolare sui consumi d'acqua, ora costa tra i 50 e gli 80 euro al chilo, è l'utilizzo che se ne fa, non è il prezzo. Uno dice, ah 80 euro al chilo, sì, ma quanta ne usi? In generale si taglia tra il 10 e il 15% ai fini per esempio della panificazione, della produzione di cracker, crisini, quelle cose lì. Quindi su un chilo di farina ce ne vanno 100 grammi di farina di grillo, quindi ne tiri fuori due chili di pane con 8 euro di farina di grillo. E' tanto? Sì, però è chiaro che non è candidata a diventare un ingrediente di consumo quotidiano, è candidata intanto a proporre alternative alle proteine animali, quelle derivanti dagli animali che mangiamo tutti i giorni, che sono estremamente più impattanti sull'ambiente, mi suona il telefono, e anche estremamente più impattanti a livello proprio di produzione. Scusatemi, Valerio. Non so se siete mai stati in un allenamento di polli, ma ve lo raccomando. Sì. No, scusatemi, Valerio. Avevamo perso l'audio, Serena, adesso ti ho messo in diffusione e ci siamo resi conto. Volevo interagire, ma siete partiti giustamente con una... Adesso ti sentiamo, adesso ti sento, Serena. Oh, vi voglio bene, allora, andavamo qui tutti a bocca aperta. Vi saluto, saluto e ringrazio per essere con noi. Sara Chelani, Fratelle d'Italia, Luca Pirondini, Movimento 5 Stelle. Se le ricordo che le sostanze, la polvere di insetti che sono state licenziate dal governo riguardano grillo, locusta migratoria, verme della farina, larva gialla, la domanda che ti volevo fare, Lorenzo, non tutti gli chef la pensano come te. Sì, c'è pure chi dice aiuto, aiuto. Devo dire pure noi, diciamo, nell'ignoranza uno dice oddio l'insetto. Io credo che, no, non credo che sia ignoranza, credo che sia un preciso calcolo, perché la cucina e la gastronomia ovviamente è un mezzo di propaganda incredibile perché non genera disaccordo. Cioè se dico la pizza è buonissima, quanti su cento mi diranno no? Nessuno. E quindi, allo stesso modo, entrare dalla parte degli oppositori, tra virgolette, della farina di grillo, secondo me è un modo per far parlare di sé in maniera che non generi dissenso, ecco. E io penso spesso che molti chef sono amici di molti politici, insomma, c'è un po' di questo. Vabbè, tu la vedi come ne dai una lettura, diciamo, di conformismo e quindi giustamente un pensiero critico ci sta sempre bene invece. Grazie, grazie Lorenzo.